Il Centro Internazionale per la Ricerca Matematica, con acronimo CIRM, è stato fondato nel 1978. È uno dei sette centri di ricerca della Fondazione Bruno Kessler, una fondazione finanziata principalmente dalla provincia autonoma di Trento. Scopo primario del CIRM è quello di favorire la ricerca matematica di base attraverso l'organizzazione di convegni, workshop e scuole internazionali. I temi trattati sono temi di grande attualità e centrali nel dibattito o scientifico internazionale. Spaziano dall'analisi matematica alla geometria, dalla probabilità matematica all'algebra, dall'informatica alla biomatematica e alla fisica matematica. Dalla sua nascita il CIRM ha organizzato circa 260 convegni. Quest'anno abbiamo organizzato 13 convegni e workshop con la partecipazione di circa 700 studiosi provenienti un pochino da tutto il mondo, soprattutto europei, ma molti americani, cinesi e russi. Da alcuni anni dirigo questo centro assieme a un eccezionale comitato scientifico internazionale con lo scopo di inserire il CIRM in una rete di prestigiosi istituti di ricerca internazionali. Tra i maggiori cofinanziatori dell'attività del CIRM hanno veniamo l'Istituto Nazionale d'Alta Matematica e il Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento e numerosi enti di ricerca europei come anche l'IRC. Accanto all'attività comunistica in questi ultimi anni il CIRM ha avviato anche una serie di programmi per sviluppare la ricerca in loco. In particolare abbiamo ogni anno due giovani borsisti post-doc, abbiamo un programma di professori visitatori, una decina di visitatori l'anno, e un programma di lavoro in coppia chiamato Research in Pace, in cui studiosi di diverse città del mondo passano a Trento un periodo da una settimana a sei settimane per condurre delle ricerche in matematica di base. Nel corso del suo cammino il CIRM ha perseguito una strada particolarmente originale, frutto anche del gusto e della personalità delle persone che lo hanno dirette, ma anche della sua particolare posizione geografica in un territorio di confine politico e culturale al centro dell'Europa. In questi anni il CIRM si è affermato come un centro internazionale per la ricerca matematica, disciplina che sta alla base dello sviluppo sociale, culturale ed economico della nostra società.